Quindi, nonostante i vari tentativi di integrazione attuati dai romani nei confronti dei barbari, alla fine del IV secolo abbiamo visto che le incursioni aumentarono, soprattutto a causa di due fattori fondamentali. Da una parte l'espansione degli Unni, di questo altro popolo asiatico, che era particolarmente forte dal punto di vista militare e particolarmente violento, tanto che spaventava le stesse tribù germaniche stanziate in Europa ai confini dell'impero romano, e che costrinse le tribù germaniche a spingersi all'interno dell'impero e salvarsi dagli Unni che stavano invece arrivando alle spalle. Quindi questa è sicuramente una delle conseguenze per cui nel IV secolo i Germani iniziarono a fare sentire la loro presenza in maniera consistente nell'impero romano. La seconda causa era dovuta al fatto che i Germani stavano attraversando, a differenza dei Romani, una fase di crescita demografica molto forte, tra l'altro. Quindi quando i Germani e queste varie tribù germaniche vedevano all'impero romano, che stava al di là dei confini, spesso vedevano terre incolte, abbandonate, che invece a loro servivano perché la popolazione stava aumentando, avevano bisogno di nuove terre, nuovi spazi. Siccome alle spalle potevano espandersi poco perché stavano arrivando gli Unni in generale, ora chiaramente non è che sono lì che stanno cavalcando e arrivando alle spalle dei Goti, però c'era la paura del fatto che gli Unni potessero arrivare e razziare interi territori. Quindi volgevano i loro occhi di fronte a loro, verso ovest, verso l'impero romano, che stava invece attraversando un periodo di decrescita demografica molto importante e consistente. Quindi chiaramente quando da una parte sali e da una parte scendi e se tra l'altro c'è una spinta a scappare dalla parte opposta, viene naturale l'invasione. Che cosa però nei fatti stava capitando all'interno dell'impero romano? Perché noi eravamo arrivati a parlare di Teodosio, la morte di Teodosio e la spartizione definitiva dell'impero occidentale-orientale, con l'Oriente ad Arcadio e l'Occidente a Onorio. Il problema stava nel fatto che Onorio, quando diventò imperatore, aveva soltanto 11 anni. Quindi, per volontà proprio di Teodosio, per volontà del padre, il giovane, giovanissimo Onorio fu posto sotto la protezione di un generale vandalo che si chiama Stilicone, che è molto importante, che aveva compiuto una carriera molto brillante all'interno dell'esercito, tanto da distinguersi nei confronti dell'imperatore a diventare il comandante di tutte le truppe occidentali dell'esercito. Doveva essere una persona estremamente valida dal punto di vista militare, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e soprattutto una persona che sapeva governare. E' uno degli ultimi grandi eroi che la cultura romana ha avuto in Occidente. E vedremo a breve che fine farà. Stilicone decise anzitutto, quindi era lui che fondamentalmente deteneva il potere, era il reggente, in qualche modo, di Onorio, perché Onorio era ancora piccolo. Stilicone trasferisce la capitale da Milano a Ravenna. Anche questa è una nozione importante perché Ravenna diventerà, come vedremo, il centro per eccellenza non solo ora dell'imperio romano occidentale, ma anche successivamente dell'imperio romano orientale, quando proverà poi l'oriente a riconquistare l'imperio romano occidentale. Scelse Ravenna perché era più sicura, protetta dal mare, dalle paludi. All'epoca c'erano ancora tante zone paludose in Italia, in particolar modo nella pianura padana. Venezia era tutta una palude, ad esempio, non esisteva ancora. Stilicone riportò grandissimi successi contro i barbari, in particolare contro i goti, e in particolare una tribù dei goti, gli ostrogoti. Però, nonostante queste grandi vittorie, si stava ammassando sempre di più un esercito enorme di germanici, di diverse tribù, non soltanto ostrogoti, ma anche di alamanni, alani, vandali e burgundi, che stavano proprio scappando dall'arrivo degli unni. Questo esercito enorme che si stava formando, quindi dovete pensare proprio di intere tribù, interi popoli, figli, guerrieri, ma anche vecchi, che si spostavano dal nord Europa e iniziarono a migrare verso sud. Stilicone, barbaro lui stesso, fino a quel momento era riuscito a mettersi d'accordo con tanti popoli per evitare guerre, battaglie inutili. Però, quando si trovò di fronte un ammasso del genere di gente, anche armata, pronta a far guerra e a conquistare, più che a conquistare, a razziare, perché i barbari non pensavano di conquistare l'impero romano, loro razziavano l'impero romano, Stilicone cercò e iniziò a dire che era il caso di armarsi e bene perché serviva un grosso esercito per contrastare queste tante tribù che si stavano accumulando. Per fare ciò c'erano bisogno di finanze e i soldi all'epoca ce ne avevano pochi, le casse imperiali non ne avevano tante, costantemente dilapidate per mantenere eserciti, sì, per mantenere eserciti, ma non era sufficiente per risolvere problemi di crisi interne. Quindi Stilicone provò, anzi, imposa a dire la verità, ai grandi proprietari terrieri, ancora gli aristocratici, delle tasse ingenti, più alte, una tassazione fiscale molto più alta. tanto che questi aristocratici e il Senato in particolare non volevano che pagare così tante tasse per salvare, non avevano capito l'urgenza della situazione e quindi si trovavano, non volevano fondamentalmente pagare le tasse che chiedeva Stilicone. E quindi scoppiò una vera e propria protesta che sfociò in una ribellione. Stilicone venne giustiziato, decapitato da Onorio, che era stato portato dal Senato e dagli aristocratici a parteggiare per loro. Quindi l'imperatore Onorio fece processare per alto tradimento Stilicone, che fu decapitato, e quindi Roma perse uno dei suoi ultimi grandi generali valorosi in questo modo. E cosa successe? E chiaramente si andò poi verso il disastro. Dopo la morte di Stilicone e quindi la fine della politica di integrazione, Roma in questo momento poteva soltanto puntare a una politica di integrazione, non a una politica di lotta. Stilicone era perfetto in questo compito perché era lui stesso un vandalo romanizzato ormai perché era diventato, aveva fatto una brillantissima carriera nell'esercito, quindi era una persona adatta. E invece è stato malamente massacrato dai soliti aristocratici. Gli eventi quindi precipitano. I visigoti di Alarico, il re dei visigoti appunto, scesero in Italia, questa volta con l'intenzione di vendicare la morte di Stilicone. Alarico e Stilicone avevano degli ottimi rapporti. Quindi Alarico scese in Italia, siamo nel 410, arrivò alle porte di Roma, più volte chiese, cercò di evitare l'assedio di Roma chiedendo un riscatto in cambio per la salvezza di Roma, ma il riscatto non arrivò e quindi Alarico dette avvio alla razzia di Roma che il 24 agosto del 410 d.C. ci fu il secondo grande sacco di Roma. Il saccheggio durò tre giorni. Ora non so se voi possiate capire un saccheggio che cosa possa essere. Un saccheggio vuol dire che per tre giorni bande di guerrieri circolano per strada armati saccheggiando case, ville e negozi, compiendo atti di sciacallaggio. Quindi Roma, che nonostante non fosse più la capitale dell'impero, era ancora la città più famosa dell'impero, era tra l'altro il centro della cristianità, la città della cultura, era la città su cui tutto l'impero aveva costruito la sua potenza, quindi era simbolicamente ancora la città più importante dell'impero. Il sacco di Roma creò stupore, una paura incredibile in tutti gli abitanti dell'impero che ormai avevano capito che le cose si stavano mettendo male per l'impero romano, che addirittura la città più importante di Roma era stata saccheggiata da dei barbari. Molti cittadini pensarono che fosse appunto vicina alla fine del mondo addirittura. Per fortuna Alarico decise poi di non rimanere, per fortuna di Roma, di non rimanere a Roma dopo averla saccheggiata, ritirò le truppe, discesa in Italia ancora di più verso sud perché la sua idea era poi di trasferirsi nell'Africa settentrionale. Invece morì Alarico e i suoi successori preferirono optare per tornare verso nord, ripercorrere tutta la penisola italiana e stanziarsi poi nella zona della Provenza. Quindi i goti si stavano stanziando all'interno dell'impero romano e nella zona della Provenza. Nel giro di pochi anni, esattamente come i goti fecero in Provenza, tantissimi altri popoli iniziarono ad entrare all'interno dell'impero, a stanziarsi all'interno dell'impero, un po' come abbiamo visto nella battaglia di Adrianopoli nella scorsa unità, che ha anticipato ciò che sarebbe successo di lì a poco tempo. Entrano queste tribù germaniche, intere tribù germaniche, si stanziano in un territorio, inizialmente dicono va bene, sì, ci integriamo, ma poi fondamentalmente rimangono i soli veri padroni di quella zona che porteranno poi alla disgregazione interna dell'impero romano, perché perderà sempre più pezzi. Nelle gallie si stabiliscono i visigoti, come vi ho detto, i burgundi e i franchi. Nell'Africa settentrionale, invece, si stabiliscono i vandali, che erano guidati da un altro re importante, Genserico. Quindi, come vedete, dell'impero occidentale rimangono poche parti ancora, l'Italia e parte della Spagna, però piano piano tutte verranno invase, una dopo l'altra, e l'impero inizierà a disgregarsi. L'altra grande minaccia, come vi ho detto, che stava affliggendo i germani, erano gli Unni. Gli Unni, nel periodo di cui stiamo parlando, cioè quando ormai il sacco di Roma era terminato, e le varie popolazioni barbariche germane che si erano stanziate in Africa settentrionale e nell'odierna Francia, nella Gallia di allora, il comandante degli Unni era Attila. Attila, all'inizio del V secolo, era riuscito a costruire un grandissimo impero asiatico e europeo, un impero veramente enorme, gigantesco, ma non aveva niente a che vedere con l'impero romano. Era un impero gestito da popolazioni nomadi che avevano conquistato altre popolazioni attraverso la razzia, ma non era un impero che funzionava dal punto di vista burocratico, dal punto di vista amministrativo. Era fondamentalmente un impero di nomadi che erano riusciti a conquistare in pochissimo tempo un territorio molto ampio e continuavano a gestire questo territorio. Guidati da Attila, nel 451 gli Unni iniziarono a riversarsi nell'impero romano, compiendo devastazioni e massacri. Le devastazioni che Attila causò all'impero romano furono così atroci che sono ricordate ancora oggi come appunto Attila addirittura venne soprannominato il flagello di Dio e per la violenza di queste stragi, evidentemente passando per l'Italia compieva proprio delle stragi estremamente violente contro bambini, vecchi, donne, faceva poca distinzione e l'impero romano provò a reagire, provò a reagire con l'ultimo grande comandante romano che non era un romano doc, era di origine gallica e che provò ad imitare Stilicone nel modo di fare dal punto di vista dell'integrazione, poi era un grande generale come Stilicone, quindi aveva una politica aperta nei confronti dei germani, cercava di integrarli all'interno della società romana, ormai era l'unica cosa che poteva fare. E Ezio affronta Attila riuscendo ad allearsi con i Visigoti, li affronta ai campi catalanici nel 451 e sconfigge Attila. Fu probabilmente l'ultima grande vittoria di Roma nella storia dell'impero romano d'Occidente. L'anno dopo però Attila invase l'Italia e durante il loro cammino gli Unni saccheggiarono quello che noi oggi conosciamo come il Veneto e fu proprio questa discesa di Attila in Italia e il fatto che il Veneto fosse saccheggiato che causò la fuga di tante romani, persone che si erano insediate nel Veneto verso la laguna Veneta e quindi verso est, verso quella che noi oggi conosciamo come Venezia e la fondazione di Venezia sarà una conseguenza di questo spostamento, di questi popoli che scappando dalle invasioni di Attila si porteranno tutte nella laguna in cerca di protezione. Quindi ormai Attila era una minaccia enorme per l'Italia era accampata a Ravenna dopo aver razziato tutta la parte nord-est dell'Italia e stava pianificando di conquistare l'intera Italia però arrivò una delegazione guidata da Papa Leone I Magno arrivò proprio a Ravenna le andò incontro per chiedere ad Attila di risparmiare l'Italia Il pontefice Papa Leone I Magno si incontrò con Attila nel 452 e nei pressi di Mantova lo convinse ad andarsene con il suo esercito Ora, in realtà i motivi per cui Attila abbandonò i suoi progetti di conquista dell'Italia sono molteplici Molto probabilmente il Papa Leone non era arrivato lì da solo ma era arrivato con tanti denari d'oro che convinsero evidentemente Attila a prendere in esame l'idea di accontentarsi dei denari d'oro piuttosto che conquistare l'Italia Questa è una causa quasi sicura della rinuncia di Attila L'altro è il fatto che tra gli unni si stava ormai diffondendo una pestilenza che aveva bisogno di che aveva bisogno di essere gestita quindi non ci si poteva impegnare in un conflitto troppo importante poi perché l'imperatore d'Oriente aveva minacciato di accorrere in aiuto dell'Occidente e poi perché l'Italia non era più un territorio così tanto allettante visto che per anni era stato territorio di guerre guerre civili pestilenze invasioni quella dei Goti quindi era una terra che si stava impoverendo sempre di più non era un territorio allettante quindi Attila per queste varie ragioni decise che poteva rinunciare alla conquista e a razziare più che la conquista l'intera Italia però è un episodio importante perché ci fa capire un'altra cosa l'incontro tra il Papa e Attila il fatto che la sicurezza e la difesa del territorio non era più in mano all'imperatore perché ci è andato Papa Leone a difendere a provare a convincere Attila a non attaccare l'Italia non ci è andato l'imperatore e quindi il Papa questo ci fa capire che il Papa sta diventando sempre di più la potenza di ciò che rimane dell'impero romano d'Occidente e lui che piano piano gestisce sempre di più le situazioni è un episodio in realtà gli imperatori romani continuano a esistere continuano a esserci e anzi vedremo che continueranno molti di loro a fare danni come ad esempio l'uccisione di quest'altro grande generale che è Ezio grazie a tutti